Sì, te stesso. Ma che schifo di consiglio è? Non dirai a Nicolage queste cavolà? Nicolai! Numero uno, mi canti la prima strofa di I want it that way. Cosa? D'accordo. You are my fire. Numero due, continua. The one desire. Numero tre. Believe when I say. Numero quattro. I want it that way. Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. Ain't nothing but a mistake. Numero cinque. I never want to hear you say. I want it that way. Fantastico da brividi. È stato il numero cinque. Lui ha ucciso mio fratello. Oh cavolo, me ne ero dimenticato. Ripetiamo, il tuo alibi è che un misterioso sconosciuto ti ha dato la pistola, ti ci ha fatto mettere le impronte, ha rapinato il negozio e ti ha nascosto la pistola nelle mutande. Sì, se lo dici così non sembra improbabile. Ah, capitano, ha letto il mio rapporto sul caso Finley? Ah sì, l'ho letto, bel lavoro. Bene, grazie papà. Perché mi guardate in quel modo? Hai chiamato old papà. Hai detto grazie papà. Cosa? No, ho detto grazie amico. Mi vede come una figura paterna? No, tutt'al più lo vedo come una figura materna perché mi sta sempre addosso. Ehi, mostro rispetto a tuo padre. Io non l'ho chiamato papà. No, no, Jake, lo prendo come un complimento. Non è così grave, io una volta ho chiamato Vivian mamma ed è la mia fidanzata. Ecco, ridete di questo, Boila disturbi psicosessuali. Lo sappiamo già, ma tu hai chiamato old papino. Ehi, papino non è mai uscito fuori, ok? Però l'hai chiamato davvero papà. Tu chiudi il becco, hai detto solo bugie finora. Ok, ho mettito sulla rapina, ma che hai detto papà è vero. Ah ah! Ha ammesso che il suo alibi era una bugia, era una trappola, era solo il mio astuto malefico piano. Mi ha convinto. La ringrazio. Figliolo. Vuole che ne parliamo dopo, magari facciamo due tiri? Mi piacerebbe. Ora sarai contento, costole incrinate e dita dei piedi rotte non erano abbastanza. A pensarci bene erano più che sufficienti, sì. La parte peggiore è che Olson ci ha sfuggito. Quella è la parte peggiore. Tu potevi morire, lo capisci? Non mi sono fatto poi così male. La maggior parte delle moragie erano interne ed è lì che il sangue dovrebbe stare, lo so. È in trappola! Il seguimento sopra le auto, il mio sogno finalmente si è avverato! Forza, Jack! È tua, è tua, è tua! Lo so! Mi sento la persona più picca di tutta Rio York e con... Sabotatrice. Non è vero, io sono sempre stato un ottimo secondo. Allora, stavi solo provando quell'auto? Chiedigli del conto in banca! Il maledetto conto in banca! Devi chiedergli del conto! In banca! Chiedigli del suo conto in banca! Capitano, Santiago ha rotto l'arresto! Che? Capitano, Santiago ha rotto l'arresto! Grazie.